Musica Dai domiciliari in carcere per aver incontrato personaggi coinvolti nell'inchiesta codice interno della DDA Un 62enne del quartiere San Paolo di Bari ai domiciliari dal 2006 per assalto a Porta Valori e con un fratello presunto affiliato al clan Parisi è stato portato nel carcere del capoluogo Il capo dello Stato Sergio Mattarella accompagnato dal ministro della difesa Guido Crusetto ha reso omaggio al milite ignoto in piazza Venezia in occasione dei 79 anni della liberazione dal nazifascismo Ma questa è anche la festa che divide maggioranza e opposizioni E' stato riaperto il ponte del Ciolo, lo storico ponte della provincia di Lecce, situato lungo la strada provinciale 358, la litoranea adriatica del Salento Buongiorno, ben trovati, consueto appuntamento con l'informazione interregionale di Antenna Sud La cronaca giudiziaria in primo piano dai domiciliari in carcere per aver incontrato personaggi coinvolti nell'inchiesta codice interno del DDA Un 62enne del quartiere San Paolo di Bari è stato portato nel carcere del capoluogo Antonella Fazio Dai domiciliari in carcere per aver incontrato personaggi coinvolti nell'inchiesta codice interno della DDA Angelo Falco, 62enne del quartiere San Paolo di Bari, ai domiciliari dal 2006 con l'accusa di reati contro il patrimonio Rapine Assalto a Portavalori e con un fratello presunto affiliato al clan Parisi E' stato portato nel carcere del capoluogo perché in più e più occasioni, nonostante il regime detentivo Avrebbe incontrato a casa personaggi di spicco del sodalizio criminale egemone nel quartiere Iapigia di Bari Dalla notevole caratura criminale Tra questi, a fargli visita in casa, sarebbe arrivato anche Giacomo Olivieri, avvocato ed ex consigliere regionale Al centro dell'inchiesta dell'antimafia codice interno Che il 26 febbraio scorso ha portato a 135 misure cautelari per un presunto voto di scambio A quanto emerge dalle indagini della squadra mobile del capoluogo guidate da Filippo Portoghese e coordinate dalla DDA Pare che Olivieri sia stato a casa del 62enne per proporre investimenti finanziari palesemente illeciti e fraudolenti E proprio la figura dell'ex consigliere sarebbe il cuore dell'inchiesta che ha portato a galla una fitta rete di relazioni Che avrebbe portato a voto di scambio tra vertici dei clan baresi, colletti bianchi ed esponenti politici locali Ciò avrebbe permesso l'elezione in consiglio comunale alle amministrative del 2019 di Maria Carmelo Russo, moglie dello stesso Olivieri Nelle carte della DDA infatti compaiono i vertici dei Parisi e Palermiti, dei Montani, del quartiere San Paolo e dell'Istriciuglio Per questo Falco così nelle scorse ore è stato accompagnato in carcere Ci sono ancora diversi aspetti da chiarire sull'esplosione nell'abitazione a Carovigno costata la vita ad un pensionato Il Tribunale di Brindisi potrebbe disporre l'autopsia sul corpo della vittima Il Tribunale di Brindisi deciderà tra poche ore se sottoporre ad autopsia o meno il corpo del povero Cosimo Guarini Il pensionato 66enne rimasto ucciso nell'esplosione della sua casa di Carovigno all'alba di mercoledì 24 aprile La salma dopo essere stata estratta dalle macerie è stata trasportata presso il cimitero di Ostuni In stato di sequestro in attesa di disposizioni del pubblico ministero incaricato delle indagini Ci sono ancora diversi punti da chiarire nell'accaduto Intanto c'è da capire se la violentissima defragrazione partita da una bombola a gas che pare si trovasse in una stufa Sia stata causata da un guasto tecnico, da una distrazione o da altro E' su questo che si stanno concentrando principalmente le indagini dei carabinieri intervenuti sul posto Assieme a Vigili del Fuoco e Polizia Municipale Chi conosceva la vittima parla di una persona per bene, abitudinaria Guarini viveva da sempre in questa casa, in via Salvatore Di Giacomo Era rimasto solo da quando circa un anno fa gli era morta la madre che accudiva da tempo Aveva comunque due fratelli e una sorella che andavano spesso a trovarlo Gli abitanti della zona sono ancora sotto sciocco Consapevoli che l'accaduto avrebbe potuto trasformarsi in una vera strage Se qualcuno fosse passato da quella strada al momento dell'esplosione Un 57enne Donato De Luca, operaio di Oppido Lucano, nel Potentino è morto Mentre era impegnato a lavorare in un cantiere L'uomo sarebbe precipitato al suolo dopo essere stato colpito probabilmente da una lamiera Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione e della compagnia di eccellenza Il personale medico e paramedico del servizio del 118 Ci occupiamo di politica sinistra italiana contro Michele Emiliano Dopo l'uscita di Anna Grazia Maraschio Mentre Don Angelo Cassano di Libera prende le distanze dalla nomina di Viviana Matrangola Il rimpasto in regione non scioglie i nodi del centro-sinistra Antonio Bucci Dall'opposizione provano a metterci il carico come a briscola E rinanciano sulla mozione di sfiducia depositata in consiglio Il rimpasto di giunta aperto da Michele Emiliano non scioglie tutti i nodi Anzi, e lascia più di un mal di pancia nel centro-sinistra Siamo alla farsa Tuonano da sinistra italiana dopo l'estromissione dell'esterna Anna Grazia Maraschio Che ha dovuto cedere le deleghe all'ambiente All'ex presidente dell'ordine degli avvocati di Mari Serena Trigiani E frena anche Don Angelo Cassano Referente di Libera Dopo la nomina della Neretina Viviana Matrangola D'assessore alla legalità e cultura Lo fa parlando di scelte personali Ammonendo sulle strumentalizzazioni Un rimpastino secondo la Lega I 5 stelle restano alla finestra Ma intanto non voteranno la sfiducia Adesso ci auguriamo che venga discusso il prima possibile Probabilmente sarà il 7 di maggio E sarà quello anche il luogo in cui affronteremo Il tema del rimpasto di giunta Che stando a quello che leggiamo nelle ultime ore Ci sembra proprio un rimpastino Ci lo riteniamo un rimpastino In quanto dai proclami fatti Sia dalla Sheline che dal governatore Emiliano Ci si aspettava un'impronta differente Invece così non è stato Noi attenderemo quali sono gli sviluppi Della situazione Ma attualmente Sembra che il governatore voglia rimanere Su quelli che sono stati gli anni di governo Che lui ha fatto in questi anni Noi abbiamo appena firmato come centrodestra La mozione di sfiducia E ci attendiamo insomma di portarla in aula E capiremo anche quali sono Le decisioni di Italia Viva Di azione del Movimento 5 Stelle Visto anche lì tanti proclami Ma ancora non sappiamo Quale sarà l'esito della loro decisione In merito al governo Emiliano Il Senato apre i consultori Ai provita Francesco Manigrasso Il Senato dice sì All'ingresso di gruppi antiabortisti Nei consultori Malgrado le polemiche Sull'inserimento dell'aborto In un emendamento al decreto sul PNRR Parlano di possibilità Dalle fili del governo Specificando che la legge 194 Così come dichiarato dalla Premier Meloni Non verrà toccata La legge 194 non si tocca La norma che è stata approvata Non tocca la legge 194 L'hanno detto tutti L'hanno confermato tutti Capisco che sia interessante La polemica politica Però consentiteci di dire È un tema che non ci interessa La polemica politica Su una cosa che non esiste È soltanto un'opportunità Che è consentita alle donne Che vivono un momento Di grande difficoltà Di decisione Che hanno bisogno di essere supportate All'interno dei consultori Di potersi confrontare con gli psicologi Con gli educatori Ma anche con i rappresentanti Delle associazioni Per poter avere delle indicazioni Dei consigli Non siamo disponibili A questa regressione Autoritaria e pericolosa Che noi vogliamo fermare Ad ogni costo Dice il segretario della CGL Maurizio Randini Al presidio organizzato Sotto Palazzo Madama Sono balle Che non verrà toccata La 194 I consultori hanno bisogno di investimenti E mettere in condizioni Le donne di scegliere Attaccare una libertà fondamentale Che è quella della possibilità Delle donne Di scegliere di essere proprietari Del loro corpo Non è democrazia Sono balle E che ci siamo stancati di balle Perché se uno vuole applicare La 194 Fa gli investimenti Perché i consultori funzionino Non hanno bisogno di uomini Che vanno a spiegare alle donne Perché non abortiscono I consultori hanno bisogno Di investimenti Di metterci persone competenti Di svolgere la funzione Che devono svolgere E cioè di mettere nelle condizioni Le persone In questo caso le donne Di poter liberamente Scegliere quello che fanno Mentre qui stanno tagliando Il capo dello Stato Sergio Mattarella Accompagnato dal ministro della difesa Guido Crosetto Ha reso omaggio al milite ignoto In Piazza Venezia In occasione dei 79 anni Della liberazione dal nazifascismo Questa è anche la festa Che divide maggioranza e opposizioni Allora vediamo il servizio Del collega Francesco Manigrasso Da Roma E a seguire le celebrazioni In ciascuna provincia Sono passati 79 anni Della liberazione dell'Italia Dal nazifascismo All'altare della patria In Piazza Venezia a Roma Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella Insieme alle più alte cariche Dello Stato Tra cui la premier Giorgia Meloni Ha deposto una corona di alloro Al milite ignoto Che rappresenta tutti i caduti E i dispersi italiani in guerra Una data che segna la storia E porta inevitabilmente a divisioni Come quelle tra maggioranza e opposizioni Convinte sempre di più Che questo governo faccia fatica A definirsi antifascista Non riescono a dire antifascista Eppure antifascista significa Ne più ne meno che celebrare La religione civile di questo paese L'antifascismo è ciò che ci ha liberato Non solo dai nazisti e dai fascisti Ma che ha restituito all'Italia Una democrazia piena Qualcuno abbia detto in questi giorni Che c'è un'incompatibilità Tra pronunciare la parola antifascismo E avere la fiamma nel simbolo Credo che questo continui a essere il problema Ma dal governo dicono basta Non si può ogni anno strumentalizzare questa festa Perché si definisce antifascisti e basta Perché si è a favore di una dittatura Di un altro tipo Come sono stati tanti antifascisti È una cosa Essere per la libertà Per i diritti e le garanzie E i principi incarnati nella Costituzione Questo è nella nostra azione Vediamo che alcuni fanno fatica A definirsi anticomunisti Noi non abbiamo difficoltà A condannare il fascismo E il comunismo e tutte le dittature Anziché farla diventare La festa di tutti Della liberazione Anche un momento di festa civile Di tutto il popolo italiano Tutte le volte strumentalizzazioni Polemiche Tra bocchetti Tra poloni Tutte situazioni che servono solo Ed esclusivamente per fare propaganda politica È una giornata particolare Che dobbiamo festeggiare Perché serve ricordare quello che è accaduto Il tempo può scontornare magari i ricordi La memoria Ma non può né cancellare la storia Né ribaltarla Qui in questa città antifascista Si è tenuto il primo congresso nazionale di liberazione Qui si sono riunite per la prima volta Quelle persone che poi hanno scritto la Costituzione E qui ci sono dei pezzetti di storia 79 volte 25 aprile a Bari Come nel resto d'Italia Vale per le celebrazioni al Sacrario Per la corona dall'oro sulla lapide affissa All'esterno di Palazzo di Città In ricordo del sacrificio dei partigiani baresi E sempre il sindaco Antonio De Caro A consegnare le pergamene di riconoscimento Ai parenti di alcuni dei partigiani della Puglia Ancora qualche ora fa Era in tribunale Per accompagnare un imprenditore Che ha denunciato i suoi estorsori Finiti a processo Anche quella è resistenza Spiega Ascoltare in aula nel dibattimento Durante l'interrogatorio Quello che hanno dovuto passare È stato emozionante Ecco quindi li ringrazio anche per il coraggio Per la determinazione che hanno avuto Anche quella è resistenza A poca distanza la CGL Che apre i battenti per i quattro referendum Obiettivo cambiare le norme su licenziamenti Tempi determinati e appalti Ogni qualvolta viene meno il lavoro Aumentano le povertà Aumentano le disuguaglianze Qualcuno è legittimato Si sente legittimato A ridurre gli spazi democratici Le libertà E quindi sorgono i nuovi fascismi Nelle nuove forme A Foggia le celebrazioni del 25 aprile Hanno avuto inizio alle 9.30 In Piazza d'Italia Con la commemorazione ufficiale Del giorno della liberazione Alla presenza delle autorità civili Militari e religiose Con la deposizione della corona Davanti al monumento ai caduti Una ricorrenza che per il 79esimo anno consecutivo E' ancor di più in considerazione Del delicato periodo storico Segnato da guerre Allo scopo di celebrare I valori della democrazia E della libertà Patrimonio collettivo Da difendere e mantenere costantemente La nostra Costituzione Ricorda che siamo Una repubblica antifascista Che per liberarci Dalle forze oppressive Che ci hanno ecco Tolti i diritti Le libertà umane e civili Ci sono stati Dei nostri antenati Che hanno lottato Fino alla perdita della vita Per queste conquiste di civiltà Foggia ha dato Un eroso tributo In termini di vite umane Tant'è che Gli è valso il riconoscimento Della medaglia d'oro Al valor militare Al valor civile Proprio perché I cittadini hanno vissuto Sofferenze Deportazioni Rastrellamenti Bombardamenti Ed è Uno del gonfalone Qui oggi ci siamo Inchinati E' uno dei più Blasonati Sicuramente della Puglia Dell'intera Nazione Sogno infatti Che le nuove Generazioni Di cui sono in rappresentanza Non perdano mai La brama di libertà Un momento di incontro Istituzionale 25 aprile a Lecce Che ha visto forte La voce dei giovani Risorsa preziosa Secondo il prefetto Rotondi E' una giornata Che deve dimostrare Quanto sia importante L'essere insieme I valori fondanti Che poi sono anche Alla base del 25 aprile La liberazione Comunque è una liberazione Che porta verso La nostra democrazia La democrazia è di tutti Questo è bellissimo Da quella data Da quel fermento ideologico E' nata La nostra carta costituzionale Ultimo 25 aprile da sindaco Per Carlo Salvemini Ed un momento Al quale nessun esponente Di centrodestra Ha scelto Di prendere parte L'augurio che rivolgo Alla mia città Al paese intero Di potersi considerare Tutti uniti Nella ricorrenza Purtroppo Succede che così Ancora non è Perché si Si può essere Progressisti O conservatori E considerare La libertà E la festa La liberazione Una festa di tutti C'è un esponente Di centrodestra Mi riferivo a quello Il clima che percepisco Nel paese Adesso lei mi sta facendo Anche osservare questo Credo che sia Un obiettivo comune Noi Come rappresentanti Della cittadinanza Chiamati ad assolvere In carichi pubblici Abbiamo il dovere Di cogliere Ogni occasione Per ribadire Che Il valore Della comunità Dello stare assieme 79esimo anniversario Della liberazione D'Italia La città di Trani Ha celebrato La ricorrenza Con la consueta Celebrazione Nei pressi Del monumento E caduti Con alza bandiera Onore ai caduti E deposizione di corona Presenti Vertici civili Religiosi E militari Sineco Qual è il valore Di questa celebrazione A 80 anni di Stato Ricordarci Chi ha combattuto Per far sì Che Sia questo Un mondo più libero Più democratico Dove Si difendono I diritti Certo È un momento difficile Sia nazionale Che internazionale Ma ricordare Questi momenti Forse ci aiuta A comprendere Quello che abbiamo E quello che dobbiamo Sempre difendere Quotidianamente Quindi Io credo che la memoria Sia fondamentale Riconoscere queste giornate E ricordarci Di chi ha lottato Per regalarci Sicuramente Un mondo migliore Forse ci aiuta A non peggiorarlo Protagonista della giornata Oggi come allora L'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia Io ci tengo particolarmente A questa festa Perché mio padre Diciamo Presidente Anche regionale Dell'Ampi È stato un partigiano Una medaglia d'argento Al valore militare Quindi Ha rischiato La morte È stato Cadutato Oltre le linee nemiche Quindi ha una storia E una vita Da raccontare Sventola la bandiera italiana Anche su Brindisi In piazza Santa Teresa Alla presenza Delle autorità civili e militari La cerimonia commemorativa Del 79esimo anniversario Della liberazione Promossa dalla prefettura In collaborazione Con la brigata Marina San Marco E il comune È sempre un significato Importante Sicuramente I conflitti Le guerre Che in questo periodo Attanagliano Realtanno E vicine Ci rendono ancora Più vicini A questi pensieri A questo desiderio Che abbiamo Di riaffermare I valori La libertà Per cui sicuramente C'è un valore aggiunto Ma la memoria È l'unico modo Per preservare Per continuare A perpetuare Questi valori Su cui è fondata La nostra democrazia Anche da qui oggi parte Un messaggio importante Sottolinea All'onorevole Mauro Dattis Un pensiero Che non può avere Colori politici È la festa Della liberazione La festa Della libertà Che non ha Distingo Politici Non ha distingo Di partiti Di movimenti A volte Anche le polemiche Sono fine a se stessi Quindi Anche a Brindisi E anche da Brindisi Soprattutto Un messaggio Di riconoscenza Nei confronti Di chi Ha lottato Per la libertà Subito dopo La manifestazione Di piazza Santa Teresa In piazzetta Sottile De Falco L'omaggio E caduti Della resistenza Decorati Al valore militare A cura Della sezione Provinciale Dell'Ampi Che c'essi il fuoco E che ci sia pace Ovunque Questo è il messaggio Che ha echeggiato In piazza Della vittoria A Taranto In un 25 aprile In cui il pensiero E le parole Delle autorità civili Militari E religiose È andato Agli scenari di guerra Non lontani da noi Questa festa In questo periodo storico Assume poi Una caratterizzazione Ulteriore Perché abbiamo Degli scenari di guerra E quindi Celebrare il 25 aprile Ha anche il significato Di celebrare la pace Come ben sapete Lo scenario geopolitico E geostrategico In questo momento Impone Una presenza Ben lontano Dalla malde patria Per garantire La libertà di navigazione Per salvaguardare Gli interessi nazionali Evidenziando il fatto Che qualunque azione Che accada Anche a migliaia Di miglia lontano Ha ovviamente Degli effetti Anche sull'interesse nazionale E sul nostro territorio Ci ricorda I valori della libertà I valori Della fraternità E ci permette Di costruire Intorno a questi valori E rafforzare Intorno a questi valori Le prospettive Le prospettive del nostro futuro Gratitudine infinita Uomini e donne Della resistenza A loro Il nostro sentito ricordo E tutta la nostra riconoscenza Ha detto il sindaco Di Taranto Rinaldo Melucci Una giornata importante Carica di emozioni Per il momento Che stiamo attraversando E per quello Che anche abbiamo attraversato In questa città Con la speranza Che si riparta Da questa giornata Con maggiore consapevolezza E maggiore fermezza Su rispetto Di certi valori Condivisi Che sono Alla base Del nostro ordinamento Ed è stato riaperto Il ponte del Ciolo Lo storico Ponte Della provincia Di Lecce Situato lungo La strada provinciale 358 La litorane Adriatica Del Salento Lo storico Ponte del Ciolo Situato in località Gagliano del Capo Torna a nuova vita E alla percorrenza Dei mezzi Grazie all'intervento Della provincia Di Lecce Si sono conclusi Infatti I lavori Voluti Dall'ente Che è riuscito Ad ottenere Un finanziamento Di oltre 4 milioni Di euro Dal ministero Delle infrastrutture E dei trasporti Risorse Che hanno permesso Di attuare Il progetto Di risanamento Consolidamento Edeguamento Sismico E funzionale Della maestosa opera Inserita in un contesto Paesaggistico Di particolare bellezza Tra gli scenari Naturali Più suggestivi Del Salento Alla cerimonia D'inaugurazione Che ha avuto luogo Nel pomeriggio Di mercoledì 24 aprile Con l'accensione Dell'illuminazione Il taglio del nastro E il passaggio Della prima vettura Erano presenti Il presidente Della provincia Di Lecce Stefano Minerva I consiglieri Pazio Morciano E Francesco Volpe E le autorità Civili e religiose Beh è una festa Perché abbiamo voluto Fortemente Investire su un'opera Che è fondamentale È fondamentale E come simbolo Del Salento Ma anche per la Viabilità Che collega Insomma tramite Attraverso l'Adriatico Tutti i flussi Di turisti E non solo Che vengono a visitare Il Capo di Leu Lunga circa 60 metri L'opera d'avanguardia Tutta Salentina Si trova lungo La strada provinciale 358 litoranea Della costa adriatica Del Salento In corrispondenza Di un'insenatura Rocciosa profonda Circa 30 metri Dall'ottobre del 2006 Fa parte del parco Costa Otranto Santa Maria di Leuca E del bosco Di Tricase Abbiamo ritenuto Sempre Da sempre Un'opera strategica Abbiamo voluto Fare un intervento Che mettesse Non solo Un grande lavoro Di ammodernamento Da un punto di vista Tecnico Ma che entrasse Anche nell'idea Di mobilità Che stiamo sviluppando Come provincia Su questa costa Una mobilità lenta A disposizione Anche dei ciclisti E dei pedoni Per garantire Una fruizione Anche panoramica Di questo luogo Che è simbolico Per molti di noi E a Bari San Cataldo Zona Faro Surgerà un parco Ma i residenti Sono preoccupati Per la viabilità Procedono i lavori Di riqualificazione Del tratto di costa Ricompreso Nella zona Di San Cataldo C'è Chi però Si lamenta Che con la pedonalizzazione Di conseguenza Poi scarseggiano I posti auto Andiamo a sentire I cittadini Io abito nel quartiere Quindi per carità Un bel parco Bellissimo progetto Però la viabilità È già critica adesso Questa che era Una strada tranquilla Via Tripoli Adesso è trafficatissima E lo sarà Ancora di più Quando verrà pedonalizzato Il lungomare Secondo me ci voleva Un compromesso Ecco Quindi mobilità E servizi Forse si potrebbe Perdere un po' Questo Qui c'è Uno spirito Abbastanza Di tranquillità E' prezioso Ci mancherebbe altro Un grande ringraziamento Per questo Che finalmente Sta arrivando Per i posti auto Qualcuno si è lamentato E dobbiamo Un po' Civilizzarsi Un po' Di più Apprezzare Quello che avviene Ci mancherebbe altro Questo per carità Qui alle mie spalle C'è il cantiere Si creerà Un'area unica Pedonale E questo potrebbe Effettivamente Creare qualche problema Perché sarà Completamente chiuso Il transito Alle auto Da questa parte Della zona E dunque Gli interrogativi Le preoccupazioni Dei cittadini Sono abbastanza legittimi E comprensibili Ma c'è anche Chi si interroga Sulle caratteristiche Di questo parco Qualcuno E' preoccupato Che questi lavori Di rifacimento Possano andare A disperdere Quella che è La vera natura Dei luoghi D'accordo Una miglioria Dei luoghi Però questa miglioria Deve tenere sempre presente Di non essere Eccessivamente invasiva E andare nell'artificiale Ma tenere presente Anche il lavoro E la creazione Dell'uomo E dei luoghi Rispetto dei luoghi Il cosiddetto L'anima dei luoghi Di cui parlavano I latini Il sindaco di Taranto Rinaldo Melucci A Roma Per la firma Del protocollo D'intesa Con il ministero Della cultura Parte dunque L'iter Della fondazione Che gestirà La biennale Italiana Del mediterraneo Dopo mesi Di incessante attività Il comune di Taranto Porta a casa La firma Del protocollo D'intesa Con il ministero Della cultura Un risultato Che completa La programmazione Di respiro internazionale Che ha l'obiettivo Di posizionare L'immagine Della città Partendo dalla cultura Una sfida Che il ministro San Giuliano Raccolto Ricorda il primo Cittadino Melucci E che pone le basi Per far partire L'iter Verso la costituzione Della fondazione Che gestirà La biennale Italiana Del mediterraneo Ma la biennale Per noi è importante Perché è agganciata Ai processi di rigenerazione Come sapete Verrà ospitata Con ogni probabilità Presso il rigenerato Palazzo Archita Per il quale Occorrono altri fondi Dei quali stiamo ragionando Proprio col ministero Gestito Dal ministro San Giuliano E all'interno Del quale Dovrebbe trovare spazio Anche la prima Pinacoteca comunale Di Taranto Per esposizioni A rotazione Di una certa importanza In città E anche l'estensione Noi crediamo In convenzione Col ministero Del Marta Che ha tanti reperti Ancora da esporre E ha tanti visitatori Ancora da attrarre In un processo Come dicevo Di cambiamento Della città Che falleva sulla cultura L'assenza di due assessori Nel momento Di deliberare Sul contributo Al Gay Pride 2024 Cozza Con la candidatura Di Brindisi A Capitale Della Cultura La riflessione Di Michele Iurlaro Sarebbe logico Oltre che bello Pensare Che in un capoluogo Candidato Al prestigioso Titolo Di Capitale Della Cultura Tutti i componenti Dell'amministrazione Comunale Esprimano Convinti E compatti Il proprio favore All'approvazione Di una delibera A sostegno Delle iniziative Regionali Per il Gay Pride 2024 Non è andata Così a Brindisi Dove il vice sindaco Massimiliano Giano E l'assessore ai servizi sociali Antonio Pisanelli Non presenti in sala giunta Al momento della votazione Ci hanno privato Del loro parere Della loro idea Né contrari Né favorevoli Direbbe qualcuno E la cosa Per l'appunto Potrebbe finire lì Non può finire qui Però se quella città Rivendica riscatto Sociale e culturale Se quella città Con orgoglio Brama appunto L'ambito di conoscimento Se quella città Tra neppure due mesi Ospiterà i grandi della terra Per quella cena Voluta dal presidente Della Repubblica Sergio Martarella Padrone di casa Già in quella città Dove no Non tutti hanno votato A favore di quel contributo Comunque concesso Capirai Appena 500 euro Nulla più Per colorare Quella città Che avrebbe bisogno Di più diritti E di meno proclami Quella città Dove sono sempre Di più le promesse Che non si possono mantenere Dove sono troppi Di arcobaleni Che non sono mai sorti Nel corso di una cerimonia Nella sala consigliere Del comune di Taurisano La città E il locale commissariato Hanno ringraziato Il vicequestore Salvatore Federico Prima della quiescenza Tanta la partecipazione E la commozione Che nel pomeriggio Di mercoledì 24 aprile Ha accompagnato Il momento di saluto In vista della quiescenza E di ringraziamento Che la città di Taurisano Ha voluto rendere Nei confronti Del vicequestore Salvatore Federico Il quale Per 14 anni Ha diretto Il locale commissariato Di pubblica sicurezza Da servitore dello Stato Fedele autorevole Alla cerimonia Oltre al dirigente Della polizia di Stato Calabrese d'origine Masalentino D'adozione Come lui stesso Ma ripetere Hanno preso parte Il prefetto di Lecce Luca Rotondi Il questore Massimo Modeo Il sindaco di Taurisano Luigi Guidano La cittadinanza tutta E le autorità Religiose Civili e militari Un riconoscimento Per il lavoro svolto Per ciò che l'ha svolto E come l'ha svolto Lui è stato Ed è Un punto di riferimento Nel senso che Ha interpretato il ruolo Del dirigente del commissariato Nel miglior modo possibile E servendo E svolgere Al meglio Le sue funzioni Di autorità locale Di pubblica sicurezza Lui però costituisce Un esempio Di attenta vigilanza Ha dimostrato sempre Anche la vicinanza Alla popolazione A noi interessa Molto questo messaggio Della Polizia di Stato E quindi vogliamo Che ci sia un testimone Al saluto Non potevano mancare Gli agenti Del commissariato Taurisanese Ora diretti Dal commissario capo Antonio De Iaco Colleghi ed amici Che negli anni Hanno affiancato Il vicequestore Federico Garantendo quotidianamente La sicurezza Sul territorio Del sud Salento Ho passato veramente Gli anni più intensi Della mia vita professionale Perché negli altri posti Sono stati comunque Pochi anni Quattro Cinque anni A Taurisano Invece lascio il cuore Perché sono arrivato Da funzionario Già molto preparato E strutturato In una realtà Molto difficile Ma credo Di aver fatto Il mio lavoro Al meglio Con i miei uomini Nel senso che Non ci siamo mai risparmiati Ho sacrificato La mia vita privata Quante posto sempre Le esigenze Dell'amministrazione A quelle personali Ma sono contento Perché so Di aver fatto Il mio dovere A Mottola In scena Le auto d'epoca L'eleganza E il fascino Della storia Su due ruote A Mottola Si sono dati appuntamento I proprietari Delle moto storiche Provenienti da tutta Italia Per le vie del centro Cittadino Esemplari Che hanno fatto La storia Guzzi Ducati Gilera Morini E l'intramontabile Vespa Piaggio Tanta gente Per il concorso D'eleganza Per moto Del secolo scorso Organizzato Con il patrocinio Del comune di Mottola Il primo Memoria L'Ottavio Pavone Questi I vincitori Angelo Ancona Con la stella Motorizzata Del 1920 Unanzani Mattia Sanzonetti Su Terro 350 Del 1934 Luca Latanza Moto Guzzi 250 Faccetta nera Del 1938 Salvatore Bonifacio Con la Moto Guzzi 250 Del 1939 Attilio Lucchi La Parilla 250 Monoalbero Del 1947 Vincenzo Campanella Con una Mondial 48 SSV3 Del 1963 Elio Cantore Con la Vespa V15T Del 1950 Francesco Chialà Con la Frera 175 Del 1931 L'obiettivo È quello Di valorizzare Il mezzo storico Come Come un oggetto D'arte Insomma E soprattutto Il nostro obiettivo È valorizzare Quelle moto Prima del 1980 Quindi tutte le moto Post guerra mondiale Tutte quelle moto Che comunque Hanno fatto la storia Oltre mezzi Che comunque Sono rimasti Sempre verdi Nell'arco Della loro vita Il pomo Della discordia Della festa Della liberazione Nata per unire La festa Della liberazione Dunque subito Dopo il 1945 A Lecce Si rivelò divisa Siamo stati Nell'archivio di Stato Alla scoperta Di documenti Che rivelano Quello clima L'ha fatto per noi L'Ori Larva Nata come festa Della liberazione Dal nazifascismo E per unire Una nazione Uscita a pezzi Dalla guerra Che dopo la dittatura Abbracciava la democrazia Il 25 aprile Qualche anno dopo Il 1945 Finì con il divenire Anche a Lecce Una festa divisiva E carica Di significati politici Tra polemiche Tentativi Tipo i soppiti Di aversione E rischio scontri Tra i due fronti In contrapposizione Nessuna riconciliazione Tra i partiti di destra E le forze socialiste E comuniste Del partito E rete della resistenza E della lotta partigiana L'equilibrio Di per sé precario Tra le fazioni opposte Sembrò inclinarsi Anche nell'interland Del capoluogo Salentino Così come si evince Da documenti custoditi Presso l'archivio di Stato Nel 1955 Per il decennale Della Repubblica Della festa Della liberazione Noi abbiamo Il rischio Di attentati Da parte del movimento sociale Abbiamo tutta una serie Di manifestazioni Organizzate Dall'Ampi Che non trovano Il sostegno Da parte Di alcune amministrazioni Perché qui a Lecce Era fortissima La presenza monarchica Ed era fortissima La presenza Del movimento sociale E questo determina Tutta una serie Di difficoltà Che costringe Il prefetto A bandire Qualsiasi iniziativa Spontanea E organizzare Un comitato Solo prefettizio Controllato Dalla questura In modo da evitare Qualsiasi scontro Qualsiasi manifestazione Un documento Come in questo caso Parla esattamente Di rischio Di lancio Di bombe carta Petardi e volantini Da parte del movimento sociale In occasione Di celebrazioni Di manifestazioni Per le celebrazioni Del 25 apri A tutto ciò È da aggiungere Una serie di testimonianze Relative all'apporto Offerto dal nostro territorio Alla causa Della liberazione Ci riferiamo Ai numerosi Elenchi Di partigiani E partigiane Redatte Tra il 1945 E il 1955 Che sono in grado Di restituirci Stralci di biografie E momenti Di vita individuale E collettiva Estremamente importanti Ci occupiamo Di sport A due giorni Dalla delicata sfida Contro il Cosenza Il capitano Del Bari Valerio Di Cesare Parla del momento Dei bianco-rossi E non trattiene Le lacrime Parlando Del rischio Retrocessione Valerio Di Cesare Queste cose Qua Purtroppo Per me I risultati Hanno inciso In modo molto negativo Si sa Che è l'allenatore Che paga Adesso conta il Bari Conta la salvezza Per me Per tutti quanti Questa salvezza È vita Perché io So Che sto qua Da tanti anni Sono venuto Che mi sono andato A allenare Quel campetto A Carbonara Sono passato I sei anni E abbiamo costruito Tanto Quindi Retrocedere Vorrebbe dire Fallire Clamorosamente Insomma Il momento È drammatico Ma il capitano C'è E sul finire Della conferenza Stampa Nel momento Del ricordo Della finale Playoff Persa Poco meno Di un anno fa L'emozione Prevale sul resto È andata così Se ripenso A A questi sei anni Comunque C'è Eh Che ti ho chiesto Non ti ho capito Ti stai commuovendo Ma ecco Non siamo abituati A vedere Buone notizie Per i giochi Del Mediterraneo A Taranto Nelle prossime ore Arriverà il decreto Che sblocca i fondi Da destinare Alla manifestazione La rassicurazione Microfone di antenna Sud Del ministro per lo sport Andrea Abodi Ministro per quanto riguarda Le opere dei giochi Del Mediterraneo Che punto siamo Che finalmente Sta arrivando a Taranto Il decreto Dopo la Corte dei Conti È uscito Credo ieri E quindi Nell'arco di poche ore Il commissario potrà Finalmente liberare Queste risorse Mettere da una parte A disposizione dei comuni E dall'altra Utilizzarle direttamente Per le opere strategiche Delle quali risponde Anche qui Il tempo Non è trascorso in vano Abbiamo recuperato Il tempo passato E sono convinto Che arriveremo ai giochi Nel 2026 Nel modo adeguato Saranno giochi Non soltanto sportivi Il Mediterraneo Ha significati Che vanno ben oltre La dimensione sportiva E credo che Arricchiremo Di contenuti geopolitici Quell'appuntamento Un'ultima domanda Per quanto mi riguarda La situazione di Iacovone Si è sbloccata In un certo senso La situazione di Iacovone Si è sbloccata Nella misura in cui Finalmente siamo riusciti A metterci tutti Attorno a un tavolo Io mi sono messo a disposizione Anche andando un po' Oltre il mio ruolo Tutto sommato Ma ho capito Che era necessario Ritrovare una sintonia Un'armonia Tra l'amministrazione comunale Il club E anche Il comitato organizzatore Si lavorerà Per fare in modo Che ci sia Il minor disagio possibile Io credo che l'obiettivo Sia quello di consegnare Comunque Alla comunità di Taranto E ai tifoti del Taranto Uno stadio Moderno Derby pugliese Con vista Playoff Scudetto Fasano E Conversano Si danno appuntamento A sabato Per un incrocio Nel campionato Di Serie A Di Pallamano Che vale anche Il primo posto La Puglia Della Pallamano Mostra i muscoli Fasano batte in casa Brixen E si prende il primo posto A più tre Proprio sugli alto A tesini Conversano Espugna il campo Di Sassari E grazie alla contemporanea Sconfitta interna Di Bolzano Contro Pressano Torna al quarto posto Della classifica E quindi In zona playoff Sotto 14-17 A fine primo tempo Fasano Ha sferrato i ranghi Nel secondo Subendo solo 13 reti E chiudendo la contesa Grazie ad un gol Di Filippo Angiolini Che ha fatto esplodere I 1200 Del palasport Di Vigna Marina Che poi hanno festeggiato Al 31-30 Finale Vittore Rimonta Anche per Conversano Che ha ragolato Sassari In trasferta 31-32 In svantaggio Di quattro reti A inizio ripresa I biancoverdi Di Terafino L'hanno rimontata Con una grande difesa Le parate Di Di Caro E i gol Di Scaramelli Sabato adesso Sarà gran derby Al pala San Giacomo Fasano Con un successo Potrebbe blindare Definitivamente Il primo posto Conversano Con la vittoria E la contemporanea Sconfitta Di Bolzano Proprio contro Brixen Sarebbe aritmeticamente Tra le prime quattro Un motivo in più Per rendere ancora Più avvincente Una gara già di per sé Sentitissima E' stato Andrea Barzagli Difensore Campione del mondo Con l'Italia Nel 2006 Ma pilastro Della famosa BCC BBC scusate Della Juventus Ospite di una serata Organizzata Dallo Juventus Club Torre Maggiore In provincia di Foggia Campione del mondo In azzurro Otto volte Campione d'Italia In bianco nero Andrea Barzagli E' un perno Della recente storia Juventina Grande ospite Nella cena Evento organizzata Dallo Juventus Official Club Alessandro Del Piero Di Torre Maggiore Uno dei più attivi Nella Capitanata L'intento è stato Quello di promuovere Tramite la squadra Del cuore I valori Dello sport E dell'aggregazione L'ex difensore D'altronde E da sempre impegnato Nell'educazione giovanile Ci vuole sacrificio Ci vuole spirito Ci vuole tante cose Passione E quindi è quello che si cerca di dare Di dare un messaggio a questi ragazzi Di fare le cose con grande passione Divertendosi da ragazzi Perché è giusto così Sognando Perché anche questo è bello Però di mettercela tutta Al di là del risultato Perché poi tanto la competitività Ce l'hanno dentro questi ragazzi Barzagli è stato calorosamente accolto Dall'entusiasmo di Tesserati Eno Dopo l'inaugurazione Dello scorso anno Con protagonista Claudio Marchisio Anche lui attivo nel sociale Si è trattato di un altro successo Importante per il club di Torre Maggiore Lo si evince Dalle parole del presidente Giuseppe Paradiso Si è messo subito a disposizione Per il nostro club E' stato felice Di abbracciare tutti Tutti i suoi tifosi Come sta facendo in questo momento Sta abbracciando Tutta la comunità di Torre Maggiore Ai soci è stata data La possibilità di conoscere Da vicino Barzagli In occasione di un aperitivo buffet Prima della cena di gala Presso il Palm Beach Ricevimenti di Torre Maggiore Il club bianconero Conferma dunque Il proprio impegno Nell'organizzazione di attività Di sostegno a bambini E famiglie bisognose Sperando anche di poter Presto tornare a festeggiare Un titolo dei propri beniamini Festa finale Per il torneo scolastico Organizzato a Cerignola Dalla società Uniti per Cerignola Calcio, aggregazione e sensibilizzazione Nel torneo scolastico di fine anno Organizzato dalla SD Uniti per Cerignola Gli studenti di tutte le scuole medie Della città ufantina Hanno potuto trascorrere Sul manto erboso del Monterisi Una mattinata di sport e divertimento Altra iniziativa Che conferma l'impegno nel sociale Degli Uniti per Cerignola La prima cosa essenziale È proprio quella Fare aggregazione tra le scuole Infatti abbiamo coinvolto Tutte le scuole medie Della città di Cerignola Vorremmo anche incrementare Questa cosa con altre scuole Delle zone limitrofi della città Entusiasmo anche da parte Dell'amministrazione comunale Come si evince dalle parole Dell'assessore alla sicurezza Teresa Cicolella Quando c'è giunta la richiesta Da parte delle SD Uniti Di patrocinare questo evento Non abbiamo esitato un secondo Ad accogliere la richiesta Penso che lo sport sia La medicina giusta Per risolvere i numerosi problemi Che abbiamo All'interno della nostra città Legati appunto al degrado sociale Anche al degrado culturale Non a caso in questa città Abbiamo organizzato Nel corso dei due anni e mezzo Di consigliatura Numerosi eventi sportivi Educare i giovani Alla cultura dello sport In questo territorio È una responsabilità pesante Anche per i docenti Che nelle scuole Si apprestano a costruire La società del futuro È importantissimo Affinché loro imparino Anche attraverso la condivisione Che non è importante Il risultato Ma essere insieme Tra scuole diverse Lo sport è scuola di vita Quindi non penso Che ci possa essere qualcosa Da poterla ugualiare Vi state divertendo? Sì, tanto Ed è tutto Il nostro telegiornale termina qui Grazie per averci scelto Per averci seguito A tutti voi Un buon proseguimento di giornata E buon 25 aprile Rimani connesso Scarica gratuitamente dagli store O tramite QR code La nuova app di Antenna Sud Più veloce E con più funzioni Per essere aggiornato In tempo reale Sulle news di Puglia E Basilicata Seguire in streaming I nostri programmi O rivederli on demand Da qualsiasi dispositivo Grazie a tutti Grazie a tutti